A dare qualche anticipazione al momento da prendere con le pinze è Amedeo Venza. Il blogger ha riportato la voce secondo cui sarebbero iniziati i casting per decidere chi siederà sul trono più ambito della tv. E non è da escludere che la padrona di casa voglia replicare il tentativo. Purtroppo poco riuscito. Di dare questa possibilità a volti già noti del parterre over, come accaduto con Ida Platano. In pole position ci sarebbe Mario Cusitore, che nei mesi scorsi ha corteggiato proprio Ida fallendo nel tentativo di conquistare la sua fiducia. Ricordiamo infatti che la parrucchiera di Brescia ha deciso di lasciare il trono perché non convinta delle buone intenzioni di Mario. Ma non è tutto. Se Gianni Sperti e Tina Cipollari appaiono irremovibili nel loro ruolo di opinionisti, non si può dire lo stesso di Tini Cansino. La ex protagonista del Drive insiede da tempo nello studio di uomini e donne, ma la sua presenza sarebbe a rischio. Ecco che cosa riporta a tal proposito il già citato Venza. Si deciderà in queste settimane il futuro di Tini. L'opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione.